Se ne è andato all'età di 71 anni Antonio Pennacchi, lo scrittore nato a Latina nel 1950 che nel 2010 vinse il premio Strega con Canale Mussolini e che appena un mese fa è stato ospite e finalista della 48esima edizione dei premi internazionali Flaiano a Pescara per la sezione di narrativa con il suo ultimo libro La strada del mare, edito da Rizzoli. Un romanzo intenso ed epico, un nuovo indimenticabile capitolo della saga della famiglia Peruzzi in cui Pennacchi racconta gli anni 50 dell'agro pontino, del mondo del canale Mussolini e delle donne e degli uomini che lo abitano. Si legge in una nota della presidente del premio, Carla Tiboni, che ha voluto ricordare lo scrittore con la motivazione della giuria della narrativa dell'ultima edizione del premio Flaiano. Nell'opera di Pennacchi, si legge ancora nella nota del premio, è la piccola storia delle famiglie originarie del Veneto che si intreccia e si mescola con la grande storia italiana internazionale del dopoguerra in un insieme di realtà e finzione, sogno e cronaca, che seguono e raccontano lo scorrere degli avvenimenti. La strada del mare è una nuova, imperdibile tappa dell'epica italiana del Novecento, quell'epica che il romanziere di Latina ha saputo raccontare come nessun altro, come fece anche a Pescara durante la serata di premiazione della sezione narrativa del premio Flaiano. La storia di tutti gli individui, al loro, al singolo individuo sembra che sia nata quando è nato lui e finirà quando muore lui, invece non è così, la storia di ogni individuo sta dentro la storia generale e ognuno di noi è il frutto di tutti quelli che sono venuti prima di lui e lui stesso è responsabile di quelli che verranno dopo. Io questo ho fatto e questo racconto, mica è colpa mia, se i miei zii a un certo punto sono partiti e sono andati, prima sono venuti dal Veneto in Agropontino e poi negli anni 50 alcuni sono partiti e sono andati nelle miniere in Belgio, altri in Argentina. Questa è la storia, ora non lo so se è la storia generale o no, ma è la storia che ho vissuto sulla mia pelle e questo racconto. Pennacchi, un commento anche da parte sua? Ero più contento se avevo vinto io, ma complimenti sia a Veladiano che a Solla. Grazie a tutti voi e grazie al premio Flaiano. Grazie, grazie a voi davvero. Grazie a tutti.